si propone di dire nessuno ti salverà caro se non te stesso quindi smettila di implorare alzati e inizia a respirare nessuno può salvarti né la mamma, né Dio, né la donce meriene e questo si intitola Sweet Mary Ann edo e questo si riunello edo e questo è un gruppo di certi edo 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no I want to come to church And just remember And you wanna be free Yes, you deserve it And I'll remember this is the dream Grazie a tutti 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 Grazie a tutti